...con l'arma dei carabinieri per far ripartire il castello di Moncaglieri. Una data storica che apre per la prima volta il castello di Moncaglieri nei luoghi occupati dall'arma. Anche è stato possibile, non lo sarebbe stato, grazie al colonnello russo, all'arma che come noi scommettono sulla possibilità di rendere disponibile, fruibile alle persone un bene dell'UNESCO, patrimonio delle umanità come questo, che sarebbe un peccato tenere chiuso. Lei ha parlato di un esempio, di questo protocollo come un esempio per sbloccare anche l'altra situazione che c'è qua a Moncaglieri. È un esempio rispetto a tutti gli attori che hanno la responsabilità sull'altro pezzo residuo della residenza, quello degli appartamenti reali che meritano di essere riaperti. L'esempio ovviamente è agli occhi del Ministero, che io spero della cultura, che io spero di a conseguenza agli impegni assunti negli scorsi giorni, quelli di riaprire gli appartamenti. Abbiamo dimostrato con l'arma dei carabinieri che si può fare.